C'è stato un momento nella storia della fisica in cui siamo stati costretti ad accettare una lezione molto dura, molto difficile da digerire, ma che ci è stata sparata in volto come un treno in corsa. Il nostro intuito, quel complesso di euristiche che ci portiamo dietro da tantissimi anni di evoluzione, poi possiamo andare indietro fino all'inizio della vita sulla Terra, o più indietro ancora all'idrogeno e l'elio nell'universo primordiale, diciamo da quando esistono cervelli abbastanza complessi, o mammiferi, o chi volete. Dicevo, l'intuizione, quell'insieme di euristiche che ci portiamo dietro e che ci suggeriscono cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, cosa abbia senso e cosa non abbia senso, cosa torni e cosa non torni, che ci fanno da guida rapida per sciogliere situazioni di difficoltà, senza doverci sedere con carta e penna e fare tutto con calma da principi primi, ci guida anche, in questo caso l'intuito, o ci guidano, se vogliamo riferirci alle euristiche, in direzioni sbagliate. Quando si risolve la meccanica classica, si comprende l'elettromagnetismo, già tirando un po' al limite l'intuizione, perché parlare di queste onde, questi campi, queste linee di campo, e il magnetismo e l'elettricità sono oggetti desueti, anomali, ma non di per loro antiintuitivi, nel senso che si sovrappongono all'intuizione. Sui campi elettrici e i campi magnetici l'intuizione non ci dice molto, magari sono oggetti alieni, non li riconosciamo, non riusciamo a tirarli verso un concetto a noi più familiare, e non possiamo pensare, mentre le palline, le molle, i pendoli somigliano a canguri, rane, bisonti, e cose con cui abbiamo convissuto, i campi elettromagnetici sono un pochino più, dicevo, diversi, un po' fuori dai limiti del nostro intuito, delle nostre euristiche, però tutto sommato, tutto sommato, non sconvolgono nulla, possono essere aggiunti al nostro intuito senza dover scassare tutto. Quel che accade tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, invece, è un vero e proprio terremoto concettuale. Nel passaggio dalla cosiddetta fisica classica, termine un po' vago con cui tipicamente ci si riferisce all'insieme di meccanica classica, ovvero palline che rimbalzano, oggetti che si muovono, oggetti che ondeggiano, pendoleggiano, cadono, salgono, vengono sparati, lanciati carrucole e cose di questo tipo. La termodinamica, ciò che si occupa sostanzialmente delle robe calde e delle maniere in cui possiamo estrarre lavoro e far girare delle macchine con queste robe calde e come i fenomeni termici hanno a che fare con scambi di energia di vario genere, poi raffinata in meccanica statistica, che è la teoria microscopica della termodinamica e elettromagnetismo, appunto ciò che si occupa dello studio di elettricità da un lato e il magnetismo dall'altro, che poi sono due aspetti dello stesso fenomeno assolutamente non separabili. Non è immaginabile un mondo in cui esiste solo elettricità o un mondo in cui esiste solo magnetismo, perché certi tipi di campi magnetici producono campi elettrici, certi tipi di campi elettrici producono campi magnetici e quindi ci sono campi elettromagnetici. Insomma, questa cosa che chiamiamo fisica classica, ho chiuso una seconda, parentesi, chilometrica oggi, e non funziona più. Non funziona più in una maniera radicale. Non solo nel senso in cui la meccanica classica non funzionava nello spiegare i fenomeni elettromagnetici, lì, salvo qualche dettagliuzzo, siamo andati ad aggiungere, ma non funziona più in senso stretto. Ci sono parti del sistema concettuale della fisica classica che vanno cambiate. Anzi, permettetemi di essere un po' più radicale, ciò che si salva della fisica classica, nel passaggio alla fisica cosiddetta moderna, alla relatività speciale e alla meccanica quantistica, è francamente molto poco. La fisica classica sopravvive come limite a basse velocità della relatività speciale e limite, diciamo, classico, perché la faccenda è un po' più complicata, non può essere riassunta con un limite a bassa velocità o qualcosa del genere per la relatività speciale, ma come un certo limite, una certa approssimazione della meccanica quantistica. a un livello fondamentale, però, da un lato lo spazio e il tempo della fisica classica vanno buttati via e sostituiti con quello delle teorie della relatività, prima speciale e poi generale, e dall'altro il contenuto di questo spazio-tempo, la materia, la luce, gli atomi, i quorchi gluoni, i muoni, i bosoni di Higgs e tutta sta roba qua, vanno descritti con un linguaggio che è non solo diverso da quello della fisica classica, ma che contraddice gran parte degli assunti teorici e filosofici che stanno alla base della fisica classica. Quindi il passaggio da fisica classica a elettromagnetismo è sostanzialmente di crescita del sistema concettuale, di aggiunta di nuovi concetti. Il passaggio da fisica classica a fisica moderna, meccanica quantistica e relatività è di sostituzione, di distruzione, con un martello concettuale e di ricostruzione di un nuovo sistema di idee, di modelli, di formalismi necessari a comprendere il mondo. Quello che otteniamo, ad esempio, è che i sistemi fisici vengono descritti da funzioni d'onda quantistiche e che quindi tutte quelle proprietà la posizione, la velocità, la maniera in cui un oggetto gira, per usare parole semplici, che studiavamo in fisica classica, che erano semplicemente definite, misurabili molto semplicemente, un oggetto, una posizione, una velocità, gira in un certo modo, noi possiamo andare a misurare queste cose in maniera indipendente, si comportano in modo diverso, si comportano in maniera strana. Ad esempio, interagiscono fra loro o non possono esistere contemporaneamente. Un oggetto in meccanica quantistica ha meno di scegliere certe modifiche molto particolari della meccanica quantistica, ad esempio l'onda pilota di Bohm, che però ammette una non località per ottenere questa cosa qui, aggiungo un oggetto che si chiama onda pilota, insomma, non c'entriamo, ci ho fatto un episodio con Daniele, andatelo a cercare, a vedere di cosa si tratta. Proprietà come la posizione e la velocità, dicevamo, di un certo sistema fisico, di un certo oggetto in meccanica quantistica, non possono essere definite contemporaneamente. Se un oggetto ha una specifica posizione non può avere una specifica velocità, sarà diffusa sui vari valori della velocità e viceversa. Questo è molto simile a quello che succede, ad esempio, con le onde sonore. Se noi abbiamo un'onda sonora a una frequenza specifica, a una nota specifica, quell'onda in senso stretto esiste in qualunque momento, è spalmata nel tempo perché è semplicemente un'onda che non finisce mai se ha una frequenza specifica. Quindi, frequenza specifica, onda diffusa nel tempo. Se noi invece vogliamo un'onda che esiste in un solo momento del tempo, un'onda sonora, un pip, una cosa di questo tipo, abbiamo bisogno, per costruirla, di sovrapporre tante, 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 tante onde con frequenze diverse. E quindi anche in questo caso un'onda localizzata nel tempo, che ha una proprietà precisa, è spalmata rispetto a un'altra proprietà, ovvero rispetto alle frequenze. Queste due cose sono mutualmente esclusive. Lo stesso vale in meccanica quantistica per tante proprietà che a livello classico non si comportavano così. Ad esempio la velocità e la posizione di un certo sistema. Se noi vogliamo un sistema con una posizione specifica, una particella localizzata, quella particella è spalmata sui momenti. In un certo senso dobbiamo sovrapporre particelle con tanti momenti, con tante velocità diverse e viceversa. Se noi abbiamo una particella che ha una velocità specifica, allora quella stessa particella esiste in tutto lo spazio. È una faccenda un po' complicata e mi serve solo da esempio di cosa possa fare la fisica moderna alle nostre teste quando poi andiamo a studiarla e ad approfondirla. A questo si aggiunge come dicevo la relatività speciale, l'idea che la velocità con cui scorre il tempo, le lunghezze nello spazio che possiamo misurare dipendono dall'osservatore, in particolare dal moto relativo fra due osservatori. Due osservatori in moto l'uno rispetto all'altro misureranno lunghezze nel tempo e distanze nello spazio diverse ma le stesse distanze spazio-temporali che quindi diventa la vera mescolando distanze nel tempo e nello spazio si ottengono le cosiddette distanze spazio-temporali in una maniera specifica, francamente una specie di teorema di Pitagora con in mezzo un meno, si ottengono le cosiddette distanze spazio-temporali che invece sono invarianti per tutti gli osservatori e così capiamo che spazio e tempo non sono due oggetti distinti ma un unico oggetto che si chiama spazio-tempo infatti lo possono misurare tutti e poi questa si combina la meccanica quantistica producendo la teoria quantistica dei campi e poi la relatività generale e così via. La vera domanda è come ci si abitua a questa roba qua perché sì, è tutto bello è tutto meraviglioso è tutto affascinante ma il nostro cervello si è sviluppato si è evoluto subendo pressioni sostanzialmente classiche una delle ragioni per cui una volta compresa la fisica classica ci sembra così intuitiva in particolare la meccanica ma anche la termodinamica devo dire è perché i predatori che abbiamo dovuto evitare le prede che abbiamo dovuto cacciare le foreste in cui ci siamo dovuti muovere per centinaia di migliaia di anni e questo valeva anche per i nostri antenati erano sostanzialmente descrivibili in termini di fisica classica più chimica, biologia e tutto quello che è zoologia e bla 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 tutto quello che volete per imparare la fisica moderna noi dobbiamo in qualche modo abituarci a far tacere quell'intuito e quelle euristiche che abbiamo nel cervello in quanto nati e cresciuti in un ambiente a cui tutto sommato si applica la fisica classica se ci muovessimo a velocità sorprendenti rispetto al nostro pianeta magari girandoci intorno velocissimo lo vedremmo contrarsi e deformarsi per effetti relativistici di moto relativo tra noi e il suddetto pianeta e quindi poi saremmo più abituati alla relatività speciale così purtroppo non è lo stesso vale se fossimo in grado di se avessimo magari degli organi sensoriali microscopici che captano fenomeni genuinamente quantistici o se i nostri occhi fossero due fenditurba o vivessimo in un mondo vicino allo zero assoluto in cui la decoerenza quantistica è più difficile ma insomma così non è non siamo abituati alla relatività e alla meccanica quantistica quindi come ci si abitua e la risposta che mi viene da dare è duplice da un lato è necessario leggere lavori teorici profondi e in questo caso io consiglio la filosofia della fisica perché la filosofia della fisica offre una chiarezza concettuale che è molto difficile trovare nei testi di fisica che si devono occupare sia degli aspetti concettuali sia degli aspetti di computazione di soluzione dei problemi la filosofia della fisica si occupa solo della prima parte quindi ad esempio i testi introduttivi di Tim Modlin sono ottimi per mettere molto in chiaro quali siano i fondamenti filosofici della fisica classica e poi saltare alla fisica moderna la meccanica quantistica la relatività e così via quindi questo da un lato leggere tanto ascoltare tanti autori diversi tanti fisici diversi avere diverse prospettive parlarne con gli altri questo è assolutamente fondamentale e così ci si costruisce una ci si abitua un po' al contesto concettuale delle nuove teorie ma la cosa da fare davvero è spaccarsi di esercizi questo è molto importante c'è un momento in cui non si può più evitare di fare una marea di esercizi finché le cose non diventano intuitive alla meccanica quantistica banalmente ci si deve abituare quindi bisogna prendere un eserciziario importante ad esempio il LIM Problems and Solutions in quantum mechanics mi pare ma se mi sbaglio mi correggerò nei commenti o se vi conosco mi correggerete voi perché siete sempre attentissimi esercizi svolti una marea di esercizi svolti andare dai più facili quelli più vicini alla nostra intuizione e a cui si arriva molto velocemente conoscendo un po' della teoria e costruendo pian pianino un intuito fisico ovvero non si riesce mai a possedere davvero a livello dello stomaco un intuito simile a quello che ci dice che se molliamo una tazza quella cade per terra e ci fa scattare a raccoglierla ma ci si può abituare a ciò che succede ovvero si può vedere un certo sistema quantistico e sapere cosa accadrà sapere dove andrà il problema costruire altri percorsi cerebrali coscienti neurologici chiamateli come volete tasche dell'anima in cui infiliamo la meccanica quantistica ma l'effetto di fare ragionando scrivendo le cose per bene riflettendo con attenzione tanti 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 esercizi è quello di costruirsi delle euristiche almeno matematiche almeno a livello di problemi di calcoli e questo insieme a un approfondimento delle fondamenta concettuali di una certa branca della fisica permette poi di digerire la stranezza la bizzarria e le rivoluzioni che in qualche modo si porta dietro la fisica teorica moderna io vi ringrazio per aver ascoltato questa mia piccola guida molto basta vaga nel senso che ci siamo mossi tra ciò che ho vissuto ciò che ho fatto ciò che la fisica è un po' di meccanica quantistica e poi la maniera in cui credo la si debba approcciare però grazie di aver seguito questo piccolo consiglio e vi ricordo che iscrivendovi al canale potete non perdere tutte le cose che farò nel futuro ho dato un occhio anche ad actually vi metto qui un video il mio nuovo canale di documentari in lingua inglese più lavorati più ricercati più profondi in un certo senso e rivolti al pubblico mondiale e ricordate che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto crononauti a presto